Benvenuti su Reality Italiano. Temptation Island. L'edizione del 2023 ci ha riservato un vero e proprio capolavoro di intrighi amorosi e colpi di scena. E tra tutte le coppie in gioco, ce n'è una che ha attirato l'attenzione di tutti, Gabriella Chieffo e Giuseppe Ferrara. La coppia più discussa e tempestosa di quest'anno. I due giovani si sono conosciuti quando era un ragazzino di 17 anni e lei una tenera ragazzina di soli 12. Sette anni di storia, dove lei ha sacrificato famiglia, amici e libertà, ma i social non perdonano mai. Dopo l'ennesimo commento sarcastico su Instagram riguardo il suo Giuseppe, la nostra 19enne ha deciso di dire basta. La gelosia patologica di Giuseppe ha messo a dura prova la fiducia di Gabriella. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la scoperta che il suo fidanzato si era iscritto segretamente a un sito di incontri. Un vero «American boy» che cercava l'amore altrove. Temptation Island è stata l'occasione per mettere alla prova la loro relazione e, purtroppo, il fascinoso fuade e la saggia Roberta hanno scosso la coppia. Un bacio segreto, un falò incandescente e una separazione annunciata, ma il destino aveva ancora in serbo sorprese. Nel secondo falò, Giuseppe ha confessato tutti i suoi errori. In un italiano che ha fatto tremare Dante nella tomba. Ricominciamo da zero, il passato rimaniamo alle spalle. Io senza fare scimità, che ti vuoi fidare di me? Ha chiesto a Gabriela di ricominciare da zero, ma questa volta insieme. E la nostra ragazza non ha resistito a un nuovo tentativo. Ma prima metti un like ed iscriviti al canale Reality Italiano. Da allora. La coppia sta lavorando duro per ricostruire la fiducia, e qualche piccolo progresso si vede. Ma quando i social si scatenano, non c'è pietà. La nostra Gabriela, dopo essersi vestita «vedo non vedo» per una serata con gli amici a Roma, ha risposto alle ironie dei seguaci. Lanciando un audace ultimatum, cambia o ti lascio. La tempesta è ancora in corso, e il destino di Gabriela e Giuseppe è ancora incerto. Sarà amore o sarà Dio? Non ci resta che seguire il prossimo capitolo di questa vincente storia.